Ti parlo in questo video del progetto Chi cura un dente dona un tesoro. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto pilota che ho ideato proprio per poter aiutare, condividendo e coinvolgendo tutti i nostri pazienti, per poter aiutare la fondazione Tommasino Baciotti. La fondazione è storica a Firenze e si occupa essenzialmente di sostenere le famiglie che hanno bambini ricoverati all'interno dell'ospedale Meyer, che è l'ospedale pediatrico di Firenze. Con loro che cosa facciamo? E questo è veramente un grande vanto e un grande onore poter collaborare con loro. Ogni volta che nuovi pazienti entrano in cura devi sapere che io devolvo all'associazione una quota. A cosa serve questa quota? Questa quota serve per sostenere quelli che sono gli appartamenti che vengono messi a disposizione delle famiglie appunto dei bambini che dovranno magari passare un anno all'interno dell'ospedale pediatrico Meyer. E ovviamente questo tema per me è molto importante. Come ti dicevo lavorando costantemente sui bambini e vedendo molto spesso la sofferenza è venuto un po' quasi obbligatorio cercare di poter collaborare, di poter dare un contributo all'associazione. Ebbene devo dire che questo ha generato un grande entusiasmo in me, nel mio team, ma soprattutto nei pazienti che si rivolgono a noi. In questo modo tutti possiamo sentirci utili, tutti possiamo contribuire anche con una piccola gocciolina. Ogni giorno vedrai sui nostri social le goccioline del giorno, cioè tutte le persone che hanno partecipato con un piccolo contributo e che insieme andranno a formare un mare di generosità e di condivisione. Questo progetto appunto è estremamente importante, spero che possa essere uno dei primi progetti pilota che faremo con la fondazione Tommasino Baciotti o con altre fondazioni e sicuramente l'obiettivo è quello di diffondere condivisione, di diffondere desiderio di poter aiutare gli altri e di poter essere utili. Questa è la cosa importante, ma soprattutto sostenere le famiglie in difficoltà. Se anche tu vuoi contribuire alla causa e ti piace questo progetto non devi fare altro che contattarci e ti indicheremo come fare e la strada da percorrere. Intanto ti saluto e ti auguro una buona giornata. A presto!